Ciao Francesco, come stai? Siamo a posto tu? Bene, bene, tutto bene dai. Adesso il caldo si è un po' attenuato, quindi sto meglio. Francesco è uno dei nostri coach che opera su Parma e fa parte del reparto consulenze. Per chi non lo sapesse ancora, ci siamo divisi in tre reparti, consulenze, corsi e vendita. Allora, il tema che hai proposto oggi è interessante. Cioè, come capire quando è ora di chiudere con una relazione? Ed è un qualcosa che ti dico, molte persone ignorano e in qualche modo trascurano. Perché? Perché quando sono con una persona sviluppano l'abitudine a stare con quella persona. Anche quando la relazione non ha più nulla da dire. Sì, ma infatti molto spesso, cioè io vedo anche studenti che entrano in consulenza per voglio recuperare la mia ragazza, voglio imparare a gestire meglio la mia ragazza. Poi effettivamente a vedere la situazione, cioè tradimenti, stava male, ogni volta sentiva quegli attacchi di panico. E quando è così, quello che mi chiedo è perché continuare magari a salvare qualcosa che è recuperabile oppure che ti fa stare male piuttosto che mettere un punto e andare avanti. Infatti, quello che mi chiedevo, perché io dico spesso ai miei studenti, è questo. Ragazzi, dovete cercare l'attimo anche voi di capire quando conviene veramente andare avanti in una relazione, anche magari invece investireci tempo, investireci del denaro, investireci soprattutto della voglia di ricominciare perché non sempre è possibile. E quando invece conviene dire, guarda, è stato bello quello che c'è stato, ringrazio l'altra persona perché ovviamente l'altra persona ti ha dato tanto. e dici, bene così, metto un punto e riconincio da zero. Salto con una serie di linee guida. La prima è, cosa provi quando la senti? Se quando senti l'altra persona, ogni volta la senti continua a stare male, continui sempre a percepire quel senso di malessere, forse è meglio che mai la smetti perché non ti fa stare bene come persona. Il secondo punto è, vuoi davvero quella persona oppure è di d'abitudine? Perché molto spesso quello che succede è che noi siamo qualcuno non perché vogliamo un'altra persona, ma perché siamo abituati. Come prendere il caffè la mattina? Io prendo ogni volta il caffè la mattina, se per la mattina non prendo il caffè, mi manca il caffè, ma non necessariamente il caffè, semplicemente il caffè mi manca perché la mattina non l'ho preso. E molto spesso in relazioni succede questo, stare anni con una persona ti permette veramente di averla sempre al tuo fianco e non ti accorgi nemmeno che stai male, non ti accorgi nemmeno che potresti stare meglio senza l'altra persona, ma ti accorgi nemmeno che potresti stare ma ti abiti così tanto ad averla al tuo fianco e dici no, non posso stare senza di lei. Quando magari il fatto di lasciarla, il fatto di andare avanti, ti permette di aprire nuove possibilità e conoscere qualcuno che magari è meglio rispetto alla persona che stai attualmente. L'ultima che io dico sempre che è molto importante è farsi questa domanda, ma io sto bene con me stesso o ho bisogno dell'altra persona per stare bene? Questa penso che sia la domanda fondamentale che io dico sempre a tutte le persone che mi entrano in consulenza. Perché vuoi l'altra persona? Perché ci stai? Ci stai perché non voglio restare solo, ho paura di non trovare nessun altro oppure perché vuoi veramente l'altra persona? Perché se continui a dire a te stesso io ci sto perché magari non riesco a trovare di meglio o perché ho paura di stare da solo, non è che ci vuoi stare, semplicemente stai facendo condizionale da una tua paura. Assolutamente d'accordo, hai detto veramente un sacco di cose in poco tempo ma sulle quali bisogna fermarsi un attimo a riflettere perché sono tutte chiaramente vere e aderiscono magari ad una realtà che molto spesso non ci piace guardare. Perché quando dici la verità soprattutto su web persone si arrabbiano. Il punto è che bisogna anche essere consapevoli che a volte le cose fastidiose possono essere utili. Quindi Francesco ha detto tante cose, invito gli studenti che magari hanno o comunque le persone inseguarci che hanno una reazione in essere di farsi le domande che ha detto Francesco e rispondere da soli. Non serve che diate la risposta a noi, la risposta potete tenerla benissimo per voi perché a noi non cambia assolutamente nulla. Però ecco sicuramente questi sono problemi che esistono in tante relazioni e che le persone essenzialmente hanno anche paura di rimanere da sole e quindi molte volte portano avanti relazioni ma neanche di convenienza più che altro di presenza ecco perché comunque tengo questa ragazza perché così i parenti non mi dicono eh ma quando ti ritrovi la ragazza oppure le persone pensano che almeno ho una ragazza comunque andare a letto o almeno così sono come gli altri eccetera eccetera eccetera. Cioè in qualche modo noi rimaniamo molto preoccupati da giudizio degli altri anche in ambito relazioni e questo chiaramente ci induce a prendere scelte, fare decisioni, attuare comportamenti che magari noi non vorremmo. Sì no infatti l'ultimo consiglio che mi do, voglio dare gli studenti, tutte le persone che ci seguono è questo, se capite che non vede solo l'altra persona non abbiate paura di prendere una decisione perché non ha senso portare qualcosa avanti fa stare male. Assolutamente sì. Grazie Francesco e alla prossima, ciao ciao. Alla prossima.